buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovo appuntamento in diretta live sul mercato dei metalli preziosi in particolare sul prezzo dell'oro ebbene sono Carlo Vallotto analista e trader dei metalli preziosi il mio sito lo vedete in alto e appunto oggi stavo dicendo andiamo ad analizzare il prezzo dell'oro il prezzo dell'oro che come vediamo sta non solo lateralizzando come vi ho segnato in questa lunga figura rettangolare che ha preso inizio dai primi di marzo fino a tutt'oggi e il prezzo appunto continua a lateralizzare segnale di incertezza tra gli operatori beh naturalmente i macro temi oramai sono i due più importanti ci sono il rialzo dei tassi o meglio la politica monetaria della Fed negli Stati Uniti e il secondo è il problema della Grecia in Europa per quanto riguarda il primo dobbiamo dire che abbiamo osservato come il mercato accusi diciamo una certa difficoltà a apprezzare le aspettative sul timing per come la Federal Reserve dovrebbe rialzare il tasso di interesse diciamo che per quanto riguarda la banca centrale americana sono due gli indirizzi che hanno uno è un tono più aggressivo e l'altro è quello un po' più dolce sostanzialmente nell'ultimo intervento del Presidente della Federal Reserve, la Yellen lo scorso venerdì in chiusura dei mercati diciamo che ha lasciato intendere che l'istituto centrale americano procederà entro il 2015 al rialzo dei tassi però d'altra parte invece ci sono continui colpi di freno perché diciamo i dati macroeconomici americani non invitano a questo rialzo dei tassi infatti abbiamo dei dati altalenanti che non spingono verso il rialzo dei tassi frenata o accelerazione dell'economia americana ancora diciamo è molto oscuro questo lato sappiamo che l'oro chiaramente reagisce in maniera piuttosto aggressiva piuttosto forte al discorso dei tassi di interesse quindi vedremo come si muoverà l'altro tema è quello che appunto il secondo tema è quello della Grecia di cui appunto in queste ore continuiamo a sentire news e smentite per cui è difficile fare una proiezione di quello che potrà essere diciamo che naturalmente c'è la speranza che si trovi una soluzione gradita per la parte europea e naturalmente gradita anche per quel che riguarda i cittadini della Grecia torniamo all'oro l'oro appunto vediamo che si trova nella parte bassa diciamo del di questo rettangolo di questo trading range quindi l'idea è che se dovesse appunto se dovesse riprendere riprendere vigore potrebbe esserci un rimbalzo appunto quanto meno fino intorno all'area 1.200 se al contrario invece dovesse se dovesse esserci un approfondimento appunto il prossimo punto di supporto sarà intorno a 1.160 intorno ecco questo è il valore di supporto bene per oggi è tutto vi rimando alla prossima analisi di martedì un saluto un buon trading a tutti Carlo Vallotto www.metallipreciosi.it Grazie.